Abbiamo visto che ci sono stati dei fatti anche gravi perché hanno visto l'uso di coltelli, però da tutti è unanimemente riconosciuto che il controllo, il presidio del territorio, l'attività di prevenzione è forte e i responsabili di determinati accadimenti vengono sempre poi individuati. Il presidio del territorio capillare spiega le zone, quelle considerate maggiormente a rischio, sono attenzionate dalle forze dell'ordine, un trend in crescita soprattutto negli ultimi mesi. In alcuni periodi come questo si è registrata, continua il prefetto, una recrudescenza del fenomeno. Al tavolo del Comitato per l'Ordine, la Sicurezza, Carabinieri, Questura, Polizia Locale e i comuni dove si sono verificati più casi, Treviso, Spresiano, Conegliano, Vittorio Veneto, Montebelluna e Castelfranco. Bisogna lavorare sulla prevenzione, è stato detto, oltre che sulla repressione. Con i sindaci oggi abbiamo anche parlato della possibilità dell'adozione dei daspo urbani che prevedono una procedura di carattere amministrativo con la modifica del regolamento di polizia urbana e poi la verifica della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei daspo urbani. Non parliamo del fenomeno delle baby gang ma dei ragazzini che si rendono responsabili di reati, a volte anche gravi. Ci sono delle situazioni di giovani che patiscono alcuni disagi e poi si sfogano in azioni che sfosano i reati e qui bisogna lavorare e si sta lavorando. L'incontro odierno è stato un bel momento per fare il punto della situazione sulle due linee che principalmente servono in questi casi, quindi prevenzione e repressione. Il presidente della provincia ha poi voluto sottolineare. Certo è che la cronaca degli ultimi tempi ha messo in evidenza un fenomeno che preoccupa e che coinvolge sempre più giovanissimi, a volte addirittura strafottenti anche nei confronti delle forze dell'ordine stesse e delle regole.